Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Per chi non mi conoscesse, io sono Elisa e vi do il benvenuto sul mio canale. Premessa, mi dispiace, ma sono in questo fantastico periodo di dolori e quindi devo per forza mettere la crema per cercare di ammorbidire e far passare tutto questo perché mi fa malissimo, sono tre herpes e niente. Vengo alle ciance. Oggi sono qui per fare un reading vlog. Allora, ho fatto un ordine, se mi seguite su TikTok e su Instagram lo sapete perché vi ho fatto dei video, per due corsi diversi all'università che mi stanno piacendo tantissimo, che sono letterature comperate e letteratura italiana contemporanea. Per quanto riguarda letteratura italiana contemporanea, domani, che è giovedì, voi vedrete questo video domenica, oggi è mercoledì, voglio iniziare a leggere dei capitoli del libro che andremo ad analizzare, che abbiamo già iniziato parzialmente ad analizzare, che è Canne al vento di Grazia dell'Edda. Questa scrittrice è una scrittrice appunto novecentesca, quindi contemporanea italiana. Peccato che quasi nessuno la conosca o ne parli o dia la giusta importanza ai suoi libri. Sappiate soltanto che lei è stata la seconda donna a vincere il premio Nobel. Quindi a me sembra più che giusto fare un reading vlog su questa lettura, su questo libro. Canne al vento parla della Sardegna, quindi del paese dove lei è nata, cresciuta e da cui si è allontanata, per una mentalità troppo ristretta per il suo e per altri motivi. Questo è uno dei suoi libri, appunto io so la trama, so la storia, perché avendone parlato la so già, però non abbiamo ancora letto dei passaggi. Quindi direi che si può fare insieme. Io ho preso questa edizione della Rizzoli, della Burr, semplicemente. E quindi partirei con la lettura. Allora, è un altro giorno ed è arrivato il momento di alcune considerazioni su Canne al vento. Sono a metà del capitolo sesto e per ora è un libro che mi sta piacendo molto. Come vi dicevo, io non avevo mai letto nulla di Grazia Dell'Edda, però secondo me è una scrittrice, almeno per quanto sto leggendo da questo libro, molto brava. Mi piace tantissimo la rappresentazione che dà della Sardegna, perché è divisa tra il paesaggio e gli abitanti. Oltretutto è proprio un paese, quindi un'ambientazione che personalmente mi piace molto. Inoltre, mi sta piacendo la descrizione delle credenze popolari che sono legate ai riti religiosi. Quindi abbiamo questo mix di sacro e profano, che a me fa sempre molto sorridere, perché è abbastanza tipico di persone non colte, piuttosto ignoranti e soprattutto paesane, chiamiamole così. Quindi adesso vado avanti a leggere ancora un po' e poi prima della chiusura del video vi faccio sapere bene cosa ne penso fino a ovviamente a dove sono arrivata. Grazie a tutti. Allora, sono arrivata a metà libro e per adesso appunto vi posso dire che la scrittura mi piace molto, soprattutto i vari flashback barra analessi, prolessi, comunque i modi narrativi che la Deledda usa per far scorrere la storia. Mi piace molto, infatti devo dirvi che non è assolutamente noiosa, ci ritrovo un po' di verismo di verga, quindi comunque questa descrizione appunto molto cruda del paesaggio, dei personaggi, come vi dicevo prima. Ma al tempo stesso c'è anche questa vena fantastica e comunque diversa per cui la Deledda non si può incasellare in una dei, diciamo, dei generi della letteratura, c'è più che i generi in una delle correnti letterarie, ecco. Per adesso i personaggi mi piacciono molto. Il fulcro della vicenda è Efish, che è il servo delle Dame Pintor, che sono queste tre sorelle. Vi dirò che una cosa che mi piace molto, sto ritrovando, però questa è un'analisi mia, non so dirvi se effettivamente sia così. Sto ritrovando degli accenni di Chekhov all'interno di questo libro, quindi appunto il tema delle tre sorelle oppure quello del servo Efish. Corrispettivamente si trovano nelle tre sorelle, che è un'opera teatrale, e nel Giardino dei Ciliegi, altra opera teatrale super famosa di Chekhov. Giacinto, ovviamente, che è il nipote delle Dame Pintor, che arriva da Roma, è un perdigiorno, sperpera anche quello che non ha. Queste Dame sono cadute in rovina e pensano di riacquistare, sono Dame nobili, e pensano di riacquistare il loro patrimonio grazie a Giacinto, grazie al nipote. Ovviamente già adesso a metà libro si capisce che non è assolutamente così, anzi, lui gli farà soltanto perdere ancora più soldi, farà perdere l'oro, questo è l'italiano corretto, ancora più soldi. Quindi mi sta piacendo molto, penso che lo finirò a breve, entro qualche giorno, quindi poi sicuramente ve ne parlerò meglio. Io spero che questo video vi sia piaciuto, vi ho portato un po' con me in diverse giornate insieme a questo libro. Se volete supportare il canale lasciate un pollice in su e iscrivetevi, se volete farlo in modo attivo c'è un link grazie al quale potete regalarmi un libro. Come sempre vi lascio i miei profili Instagram, Vinted e TikTok nell'infobox e noi ci vediamo alla prossima, ciao!